Il solito entusiasmo, quello che ha caratterizzato anche i precedenti appuntamenti, la solita vicinanza agli studenti del territorio, da parte dei tesserati del Bari. C'erano anche i calciatori Nicola Bellomo e Cristian Galano, oltre al vicepresidente Romeo Paparesta, ieri mattina presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Monsignor Antonio Bello. Il progetto Calcio e Scuola, un'unica squadra alla Bari realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, ha fatto tappa dunque anche a Molfetta. A settembre abbiamo pensato un po' di mettere insieme le nostre forze, di far incontrare i calciatori del Bari agli studenti delle scuole della provincia di Bari, di Bari città ma anche appunto come oggi di città della provincia e con un duplice obiettivo, quello di rafforzare il legame tra la squadra di calcio, la città e le scuole, quindi di rafforzare un senso anche di appartenenza, di identità culturale che è fatto anche dal tifo per una squadra di calcio, quindi noi vogliamo che i nostri ragazzi diventino alla fine tifosi del Bari piuttosto che di grandi squadre del nord e che quindi si sentano appartenenti a questa terra anche da questo punto di vista. L'iniziativa in pratica unisce il mondo della scuola e dei giovani al calcio e rappresenta una valida occasione per educare i tifosi del futuro. Ha principalmente due obiettivi, avvicinare i ragazzi al Bari calcio e diffondere la cultura della sportività in ambito scolastico. È molto importante che ci sia un insegnamento da parte dello sport ai nostri ragazzi. Molto spesso lo sport viene utilizzato come metodologia alternativa per insegnare ai nostri ragazzi e rispettare le regole. Quindi viene preso come esempio per poter far sì che i nostri ragazzi abbiano uno sviluppo integrale della loro personalità, perché da un lato gli aiuta a sviluppare il loro sé corporeo, da un punto di vista completamente fisico, dall'altro gli dà la possibilità di svilupparsi anche per quel che attiene il loro aspetto cognitivo, intellettivo, ma soprattutto quello sociale, sia da un punto di vista relazionale che di quello della comunicazione. Grazie.